Siete ricettivi? No, veramente Gian, non crederete che io sia vestito così per tutto il turno? Oggi mancano un po' di cose, diciamo, in questo essenziale tour! Essenziale tour? Eh, poco essenziale. Che come abbolario hai a casa? E' il nostro essenziale, no? L'essenzialità dell'essere non essenziale, no? Eh? Poi accendiamo una cosa per botta, quindi è... Essenziale. Tu? Ma... Ma che no? Eh? Prima non ti siete offesi, no? Perchè mi è riuscita a lavorare così da me... Perchè sei cap... Hai capito? Ma mamma, 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 mamma... Se sei giudato, è un problema tuo! Mi basta un po' di più di più di più di più di più di più. Perchè... Io non mi interagendiamo. Cioè, veramente, ragazzi... Io qui... Cioè, insomma... Non... No, perché poi mi vengono in mente... Le cose che poi seriamente io dirò... E' duro. E non posso dirle. Perchè qui... No, perché qui siamo veramente... In famiglia. Perchè... Una parola... Una parola? Una parola che senso. Un discorso. forse sarebbe meglio continuare aspetta